Com'è? Io tengo il peione in arrivo. Due minuti, quattro minuti da volentino. Eccola quella vecchia. Adesso IONIO. La metto più, lo sai? Perché la metto più. Eccola quella vecchia che va in IONIO. Perfetto, perfetto. MB-70, avete visto l'alanzi? Ciao. MB.377. Ciao. Ora siamo per le porte. IONIO. IONIO. Ci blocca le porte. In partenza. IONIO. Ci salutiamo. Ci vedevo alla prossima. Preno per la voltina e in arrivo. Allostanassi dalla linea. IONIO. 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 IONIO.